E' un fatto gravissimo, oggi c'è stato un comitato provinciale per l'ordine della sicurezza pubblica, già ieri sera, oggi più volte ho ascoltato sicuramente il prefetto, i responsabili delle forze di polizia, in questi casi l'azione e la risposta adeguata, forte, inequivocabile deve essere messa in campo da forze dell'ordine, in particolare dalla magistratura, credo che dei segnali sono stati già messi, delle iniziative sono state già decise e sicuramente ci saranno dei fatti concreti che chi li dover metterà in campo, questa città non può assolutamente accettare questi segnali di prepotenza da parte di pochi, ma che sono inaccettabili in una città come Napoli, che è sempre di più la città della vita, la città della cultura, la città della gioia e la città della non violenza, veramente è inaccettabile, è una vergogna per queste persone che sicuramente tutto sono tranne che napoletani.